Il comandante è morto! Ho capito! Ho io il comando adesso! Mi serve qualche uomo capace che non vuole farsi mangiare dagli squali? Che si unisca a me! Tu, vieni qui. E anche tu, tieni qui. Ovviamente non possiamo prendere chi perde sangue. Mi dispiace, padre. Ho promesso a mia madre che sarei tornato solo e salvo.